L'amichevole contro Siena sembra aver trovato la quadra giusta, una squadra che riesce a vincere sempre quella di Lorenzo Bernardi. Ultima vittoria ottenuta a Castellanagrotte, anzi nel parquet di Bari contro Castellanagrotte. Una partita sofferta ma vinta con grande convinzione nei finali di primo e terzo sette. E domani sera si torna in campo per l'esordio in Champions League, si gioca al Palabarton contro la Dinamo Mosca, una sfida che dà il via ufficialmente alla competizione continentale. Una Sir che si gode uno stratosferico Leon, nelle ultime partite sempre tra i migliori nei Block Davids, alla crescita complessiva di tutta la squadra a Bari. Bene anche Filippo Lanza che sul campo ha preso il posto di Aaron Russell, passato alla formazione di Trento. E proprio su Trento Civitanova e Modena che ha aumentato il vantaggio della Sir in campionato. Sir che domenica giocherà in casa contro Monza, sempre al Palabarton.